La notizia non arriva da Mosca, bensì da Washington e precisamente dal civico 700 della diciannovesima strada, sede del Fondo Monetario Internazionale. La notizia è questa. Nell'anno in corso, ossia nel 2024, il PIL della Russia si prevede che salirà del 2,6%, più degli Stati Uniti che si fermeranno ad un più 2,1% e il triplo degli Stati che adottano l'euro, la cui crescita si fermerà ad un misero più 0,9%. Quasi quattro volte la crescita italiana che si prevede non superi lo 0,7%. È il World Economic Outlook, ossia il report del Fondo Monetario Internazionale sulle previsioni economiche in tutto il mondo, a sancire un simile successo da parte dell'economia russa. La previsione è in netto rialzo rispetto a soltanto alcuni mesi fa, quando si stimava appunto che il PIL in Russia sarebbe salito dell'1,1%. Insomma, in questi ultimi mesi gli economisti del Fondo Monetario Internazionale si sono ricreduti ed ecco cosa ha dichiarato il loro capo, il loro capo economista. Sembra proprio che l'economia russa stia andando meglio di quello che sia noi che tanti altri s'aspettavano. Sempre secondo il capo economista del Fondo Monetario Internazionale sono principalmente due i fattori che determineranno appunto questo boom. Il forte intervento pubblico di stimolo e la tenuta costante dei prezzi delle materie prime sul cui export si fonda l'economia del paese, carburanti fossili ma anche metalli. Insomma, tanto per capirci, evidentemente nonostante le sanzioni incominate dall'Occidente, la Russia deve aver trovato chi compra le sue materie prime, materie prime delle quali, come tutti sappiamo, è estremamente ricca. A raffreddare un po' gli entusiasmi la governatrice della banca centrale russa, la mitica Elvira Naviullina, la quale ha usato una metafora. Se provi a guidare una macchina più veloce di quanto il suo design consenta e pigi sull'acceleratore più forte che puoi, il motore presto o tardi si surriscalderà e non andrai lontano. Allora, la Naviullina, devo dire che svolge perfettamente il suo compito, perché il governatore della banca centrale deve agire sempre contro il mercato. Deve quindi raffreddare gli entusiasmi quando le cose vanno bene e invece diffondere ottimismo quando le cose vanno male. Ebbene, nonostante si debba naturalmente ricordare sempre che trattasi di previsioni le cose poi possono cambiare, tuttavia una cosa possiamo senza dubbio dirla fin d'ora. Il previsto crollo dell'economia russa che i nostri media ci hanno sbandierato in questi ultimi due anni, ossia da quando è iniziata l'operazione speciale, ebbene questo collasso dell'economia russa non c'è stato, anzi è avvenuto il contrario. Ma concentriamoci su questo World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale che viene redato con una cadenza trimestrale. E allora, il paese che ha avuto la maggior variazione negli ultimi tre mesi non è stata la Russia, bensì l'Argentina. Purtroppo però, per quanto riguarda l'Argentina, al contrario della Russia, la variazione qui è stata negativa. Ad ottobre si stimava un aumento del PIL nell'anno in corso, una crescita appunto del 2,8%. Oggi invece, dopo l'elezione di Milei, la previsione si è letteralmente capovolta, diventando meno 2,8%. Migliora invece la previsione per il PIL cinese, la crescita nell'anno in corso passa da un più 4,2% a un più 4,6%. Ma naturalmente a noi chiaramente interessa maggiormente l'Europa. E purtroppo, come ho detto, le cose nel nostro continente, le previsioni, sono riviste al ribasso. Se ad ottobre si stimava una crescita dell'1,1%, ora a gennaio è stata ridotta ad un più 0,8% e ad abbassare la media la nostra Italia che, come ho detto, si prevede cresca dello 0,7%, ma soprattutto la Germania che eviterà nel 2024 la recessione, ma la crescita si fermerà ad un asfittico più 0,5%. Ebbene, sapete a cosa viene attribuita a una crescita così modesta per l'economia europea? Avete capito, alle sanzioni inflite alla Russia e quindi alla mancanza delle fonti di energia a basso costo. Sembrerebbe per alcuni un paradosso, ma non lo è. I miei ascoltatori più affezionati ricorderanno che io invece ho sempre sostenuto che le sanzioni avrebbero fatto più male all'Europa che non alla Russia. Ora se ne è accorto anche il Fondo Monetario Internazionale. Si potrebbe quindi pensare che la BCE inizi a ridurre i tassi prima del previsto, ma il Fondo Monetario Internazionale è di diverso avviso. Ritiene infatti che i tassi in Europa, ma anche negli Stati Uniti, verranno ridotti soltanto nella seconda parte dell'anno. Il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, il francese Pierre Olivier Gurenchat, ha voluto comunque concludere la presentazione del nuovo World Economic Outlook, vedendo il bicchiere mezzo pieno. Infatti ha dichiarato che siamo molto lontani da uno scenario di recessione per l'economia mondiale. Insomma, sembra che ci voglia dire, dai, accontentiamoci.